Oggi parliamo di Stefano De Martino, uno dei ballerini più amati d'Italia, che sta conquistando il pubblico anche come conduttore di affari tuoi. Il programma, che ogni anno ottiene buoni ascolti, ha visto un vero e proprio boom con De Martino alla guida, grazie alla sua naturale empatia e al suo modo di fare autentico e solare. Prima di iniziare, vi invitiamo a supportare il canale abbonandovi al costo di un caffè, con la vostra iscrizione e ad attivare la campanella delle notifiche, un piccolo gesto per voi, ma per noi fondamentale. Durante la puntata del 10 novembre, una concorrente, Nicole, ha attirato l'attenzione. Si presentava al banco insieme alla madre e, purtroppo, la sua partita non è iniziata nel migliore dei modi, con diversi pacchi rossi eliminati. Ma Stefano, in un gesto di scaramanzia, ha preso la giacca blu di una signora nel pubblico e l'ha messa su Nicole. Un atto che sembrava aver portato fortuna, i tiri successivi sono andati decisamente meglio. Nicole ha deciso di cambiare il suo pacco e, alla fine, ha vinto ben 30.000 euro. Nel corso della puntata, Nicole si è lasciata andare a un momento di commozione, ringraziando tutti per il supporto ricevuto. Stefano, visibilmente emozionato, l'ha abbracciata e, al culmine della celebrazione, ha preso Nicole in braccio e si è inginocchiato per toglierle una scarpa, un gesto che ha scatenato una marea di reazioni sui social. Subito dopo, infatti, sono iniziati a circolare commenti che ipotizzavano una certa chimica, tra i due. Alcuni utenti hanno scritto, a Stefano piace Nicole, si vede nei suoi occhi. Altri, invece, hanno ironizzato con frasi come, Nicole ha vinto 30.000 euro, e Stefano. Chapeau, oppure, Nicole ha vinto 30.000 euro e un bel momento con Stefano, cosa vuoi di più? L'entusiasmo dei fan per la complicità tra Stefano e Nicole è stato palpabile. E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video e aggiornamenti.